Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Venerdì è previsto uno sciopero del trasporto pubblico indetto dal sindacato Faisa Confail. A Roma e nel Lazio saranno interessate Atac, Roma TPL e Cotral, con possibili stop dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio su bus, filobus, tram metropolitane e sulle ferrovie metromare, Roma Nord e termini centocelle. Possibili ripercussioni anche sul servizio dei bus notturni, tutti i dettagli e gli aggiornamenti sullo sciopero di venerdì sono su romamobilita.it